Il Full Winter 24 è una collezione dal sapore sicuramente cinematografico, è ispirata a questo cult movie a me molto caro, il Stuart Do, un film del 76, un cult movie erotico, un mondo di colori che si abbinava perfettamente soprattutto con questa location perché comunque c'erano tanti bronzi, colori bruciati, dei leggerissimi verde salvia, verde giada che mi hanno comunque colpito proprio psicologicamente e mi hanno creato una connessione con questo posto che devo essere sincero amo molto esteticamente, lo sento molto nelle mie corte. Con Linea Pelle abbiamo iniziato questa stagione, questa collaborazione anche sullo studio di nuovi tipi di pellami che sono stati progettati e studiati apposta per la collezione con anche delle nuove pigmentazioni di colori molto molto intense, infatti in collezione ci sarà questo colore rouge noir che è proprio stato tinto appositamente per dare questo elemento sempre un po' erotico a tutto il progetto. In collaborazione sempre con Linea Pelle ovviamente la sfilata è stato un evento decisamente significativo e poi l'atmosfera del posto di questo giardino crepuscolare alle 12 nella nebbia che sembrava mattutina anche se non era mezzogiorno ha dato un grosso impatto a questi capi di pelle che sono stati proprio incorniciati nella maniera che desideravo che rappresenta un po' le origini del mio marchio, del mio DNA che è sempre un po' noir, sensuale e sicuramente anche erotico. C'era un pizzico di erotismo dentro la fiera. Grazie. 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 Grazie a tutti.